E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di recensione più doppiaggio quest'oggi parliamo di The Imitation Game Parliamo praticamente di un film della seconda guerra mondiale un po' diverso dal solito cominciamo già con trama personaggi e obiettivo allora la trama si svolge intorno al nostro Alan Turing che per chi non lo sapesse è praticamente colui che ha decifrato i codici nazisti che criptavano ovviamente per non far sapere le loro informazioni agli alleati e lui è l'unico che ci è riuscito e gira tutto intorno a questo ha un personaggio praticamente autistico che ha un sacco di problemi omosessuale all'epoca quindi che era un problema all'epoca perché comunque era difficile sopravvivere e praticamente la bellezza è questa cioè il fatto che nessuno gli dà retta anche per questi motivi in quanto appunto beh, a parte che appunto anche quello che fa è azzardato e qualsiasi persona sana non direbbe di sì però mettici pure che, te lo dice, uno odiato dalla società ecco che la combo proprio e niente, praticamente parla di lui che appunto si appresta a trovare la soluzione per scoprire i codici nazisti e niente, fine praticamente è questo è la sua vita più che altro a condire il tutto e anche il personaggio qual è e niente come trama semplice quello che serve ovviamente perché è un film biografico e... sette poi, personaggi allora c'è lui poi c'è la sua squadra di criptografi e... poi ci sono due tizi del governo e poi c'è questa ragazza che era tipo bravissima con i numeri allora io non so se questa ragazza sia esistita non mi sono informato sinceramente non so se è stata inserita per qualche motivo di far vedere il girl power dentro al film o se era veramente così ma comunque non dà fastidio perché è comunque fatta bene ed è fatta da un'attrice spettacolare che è Elisabeth di Pirati dei Caraibi e praticamente lui fa un quiz in cui tutti quanti devono partecipare insomma e lo vince lei quindi è lei a prendere la posizione ovviamente la gente dice tipo donna women però a dire la verità è la più brava a lui non gli frega niente tanto è già autistico e omosessuale quindi proprio guarda ormai a me della società sti cazzi quindi naturalmente dà una possibilità all'epoca ad una donna e poi c'è la sua squadra che è composta da alcuni che gli danno un po' più retta e poi ci sta uno che invece è un po' più stronzo che però comunque per il bene del paese gli dà retta ci collabora anche e poi diventano anche amici e poi ci sono praticamente due tizi del governo appunto uno che appare due volte mi pare una cosa del genere che è quello che gli dice di fare le cose e e l'altro che è quello che praticamente gli sta un po' più appresso di grado minore e arrivano anche ad un punto in cui appunto quasi quasi smettono di dargli fondi per fare quello che fa perché non ci crede più nessuno e invece poi pa ce la fa e le sorti della guerra cambiano anche per questo e niente obiettivi personaggi personaggi io darei anche un bel lotto perché comunque sono quello che serve in questo film è proprio azzeccato al momento giusto ci sta ci sta un botto anche se fosse appunto una scelta registica mettere di inclusività una donna che fa quella cosa beh io da Alan Turing metti caso non fosse mai successo comunque una cosa del genere me l'aspetterei quindi ci sta e quindi obiettivo 8 si obiettivo porca personaggi 8 comunque anche l'obiettivo è 8 quindi sti cazzi perché perché comunque è un film che vuole portare una cosa biografica a volte un po' divertente che ti lasci intrattenere e che comunque parla di poco perché comunque è di poco che parla perché è quello la cosa principale lui che scopre come decriptografare i i gotici nazisti ma all'intorno c'è tutta la sua vita e è interessante così com'è quindi dopo questi 8 perché sono 7,8,8 possiamo dire che 8 o meno è il voluto un film comunque da consigliarvi e ci vediamo il prossimo video che sarà il doppiaggio di The Imitation Game Ciao Ciao Grazie a tutti.